Per diversi giorni è rimasta intrappolata nelle pieghe del Monte Neroni. Oggi sta riposando nella sua stalla a pianello di Cagli. Tanta paura per Dunia, la cavalina di razza del Catria, prigioniera a 1300 metri d'altitudine. La giumenta, allontanandosi dal branco sicuramente alla ricerca di acqua, si è adentrata in una zona impervia del Cimaio e che nasconde di rupi dove l'animale è caduto, finendo in un canalone una decina di metri più giù. Dalle ferite sembra che si è capovolta e nel tentativo di frenare la sua caduta si è purtroppo lussata la zampa posteriore e destra. Solo domenica pomeriggio per caso un escursionista si è accorto dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della caserma di Cagli che con un veterinario si sono prima preoccupati di medicare la cavalina, ma purtroppo hanno dovuto lasciarla al freddo per due notte consapevoli del pericolo dei lupi. Il forte vento che soffiava sul Nerone ha impedito per 72 ore l'elicottero dei vigili del fuoco di avviare le operazioni di soccorso. Solo ieri mattina, il 12 luglio, alle 6 della mattina, è stato possibile al team del viso corso a distanza all'aeroporto di Bologna decollare. L'animale imbragato è stato trasportato in un prato in quota vicino alla strada dove con un van è stato riportato a valle. Una storia che finisce bene anche per il gran merito della solidarietà che è scattata intorno all'allevatore proprietario della bestia, dove diversi amanti degli animali hanno portato dall'alba all'imbronire avena ed acqua. Grazie. 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 Grazie.